Kate Middleton non ha deluso. La principessa del Galles si è presentata a Wimbledon con la piccola Charlotte, sorprendendo tutti con il suo abito viola. Perché Kate ha scelto proprio il colore viola per il suo abito a Wimbledon? Kate Middleton ha entusiasmato i suoi sudditi con la sua apparizione a Wimbledon insieme alla figlia Charlotte. La principessa del Galles, confermata come madrina da Kensington Palace, è apparsa mezz'ora prima dell'inizio dell'evento, vestita in un elegante abito viola. Questa è stata la sua seconda apparizione pubblica dall'inizio dell'anno, dopo quella sul balcone di Buckingham Palace a giugno. Nonostante la diagnosi di cancro ricevuta a gennaio, Kate ha mantenuto il suo solito sorriso radioso. Cosa ne pensate del look di Kate a Wimbledon? Commentate qui sotto. La piccola Charlotte, con il suo atteggiamento sicuro e ordinato, ha seguito la madre come una perfetta testimonial della corona. Non perderti nemmeno un momento. Abbonati ora per accedere subito a contenuti esclusivi che ti lasceranno a bocca aperta. Clicca e unisciti alla nostra community. Anche Pippa Middleton ha accompagnato Kate, ricevendo una standing ovation all'arrivo. Il significato del colore del vestito di Kate, che richiama i toni tradizionali di Wimbledon, è un messaggio di serenità e rassicurazione. Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima!